Sono sempre pronto a sudare, ogni giorno. Sono abituato, non mi fermo, anzi continuo. Ogni allenamento è fondamentale. Ho imparato a dare il massimo, ad essere sempre concentrato. Non sento il dolore, non sento la fatica. Rispetto la paura e ho scoperto come leggerla negli occhi del mio avversario. Sono convinto che solo così, dentro l'ottagono, sarà implacabile.